Buongiorno al dottor Claudio Sarecino da Benessere Ipnosi Soluzione. Oggi ragazzi parleremo di memoria e concentrazione. Risponderò ad una signora che mi ha chiesto Dottore, ma funziona l'ipnosi DCS vera e professionale con un audio IP3 DCS per la memoria e concentrazione allo studio di mio figlio a cui non va di studiare? Ebbene, la risposta che gli ho dato è sì, 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 tre volte sì, sì, al cubo. Perché? Perché sto ragazzo quando si è a scuola oppure i familiari lo hanno suggestionato senza rendersene conto che non è valido, che non fa nulla, che è pigro, che è flemmardico in Francia. Per cui non ha studiato, non ama studiare, non si concentra, si fa distrarre dai vizi della vita, dal cellulare, dalla televisione, dagli amici. Per cui che cosa bisogna fare? Cambiare quelle immagini, tutto a livello naturale, senza effetti collaterali, entrando, facendole entrare nel suo subcosciente e cambiando le immagini da negativa a positiva. Una volta che succede questa cosa e con il mio metodo DCS è facilissimo da ottenere, anche se è un metodo che ha più di 70 anni di storia e che proviene direttamente da Los Angeles Beverly Hills, il gioco è fatto. Il ragazzo inizierà a studiare, in scioltezza, come quando uno smette di mangiare a go-go o di fumare a go-go, di alcolizzarsi a go-go, tutto naturale, spontaneo, senza effetti collaterali e ti meraviglierà i voti che prenderà a scuola. E non lo dico tanto per... Tu puoi andare anche da qualcuno che però abbia già affrontato casi di memoria e concentrazione, un professionista dell'ipnosi vera e professionale della tua zona, e provare a iniziare. Ricordati che l'ipnosi vera e professionale, scusami, ho fatto qualche chilometro a piedi, l'ipnosi vera e professionale, è riconosciuta come medicina alternativa dell'Associazione Medica Mondiale nel 1958, anche se è poco pubblicizzata in tv, non si sa perché, la risposta te la dai da sola, e è riconosciuta anche dalla Chiesa con Papa Pio IX nel 1847, per cui stiamo parlando di scienza, ma prima di essere scienza, l'ipnosi vera e professionale è arte, ragazzi, ok? Arte, scusami, arte, per cui, non tutti, anche nel mondo dell'ipnosi, conoscono certe suggestioni, sanno dare certe suggestioni. Ti posso assicurare che la tua memoria, la tua concentrazione, o quella del tuo caro, che anche non volente, cioè che non vuole, ha il tuo aiuto e che non gli interessa, può modificarsi a livello esponenziale, ok? Perché faccio un esempio, se un bambino da piccolo, il maestro, la mamma, il papà, gli amici gli dicono tu non vali un Kaiser, non studi, o magari ha preso un voto basso e tutti contro di lui, bene, quella suggestione, quell'immagine, può entrare nel suo subcosciente, nel suo pilota automatico, a livello non palpabile, ma concreto, e sprigionare i suoi effetti, nell'immediato, dopo, durante, anche molto tempo dopo, quindi i ragazzi si convinci di essere un asino, un cuccio, un vagabondo, e se ne andrà così per tutta la sua vita, come un tic nervoso, finché, o se, non utilizzi la chiave giusta del tuo subcosciente, per aprire la cassaforte, senza effetti collaterali, ripeto, perché questa operazione la può fare anche la persona da sola, senza usare la parola ipnosi, ma è difficile, ci mette molto tempo, e cambiargli le immagini, cambiare canale, come quando fai zapping in tv, finché non lo fai, purtroppo, lui se ne andrà così, sempre come svogliato e vagabondo, con memoria debole, non credere al sottoscritto, visita i social, visita internet, visita quello che vuoi, oggi hai la fortuna di poter approfondire questo discorso, e vedrai cosa dicono riviste scientifiche internazionali, come Lancet, Life, sull'ipnosi, la memoria, la concentrazione, è tutto naturale, ripeto ancora una volta, il sottoscritto su di sé, su parte dei suoi cari, su centinaia e centinaia di persone, in Italia nel mondo, ha utilizzato questo audio mp3, memoria e concentrazione, le persone sono cambiate, dal buio alla luce, va bene? La cosa bella del mio metodo, è che puoi utilizzarlo anche per i cari, che non vogliono il tuo aiuto, come tuo figlio, fammi tutte le domande del caso, e risponderò compatibilmente, se mi impegni ai miei tempi, iscriviti a questo canale YouTube, e fa share, condividi con amici e parenti, perché può essere quel quid, che gli cambia la vita, visita il mio sito internet, www.ipnologiassociati.com, visita anche i miei profili Instagram e Twitter, benessere i pronosi, soluzione di CES, del dottor Claudio Seracino, e al prossimo video, un bacio e un abbraccio, e ricordati, fammi tutte le domande, i dubbi, il toglie di mezzo le paranoie, io ti risponderò gratis, ok? Un bacio e un abbraccio, e al prossimo video. Un bacio e un bacio,